ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su vrising non è facile fare un video su questo gioco un gioco che è degli stessi autori gli stanlock studios di battle right non è facile perché è difficile diciamo apprenderlo se non giocandoci decine di ore quindi cercherò di fare un assunto di quello che ho capito in sintesi il gioco vabbè è in early access ci resterà almeno 12 mesi e lo trovate su stima 19 99 li vale secondo me sì ve lo dico già subito così in apertura di video per gli amanti del genere ma soprattutto gli amanti del vampiri e gli amanti di quello che valheim ha dimostrato poter offrire diciamo in qualità di titolo indie perché questo è un gioco simile a valheim graficamente un po più bello ma con delle forti componenti anche pvp infatti quando iniziamo potete giocare online in pvp o in pve e in sintesi qual è il bello della natura pvp il fatto che all'interno del mondo che è un mondo assolutamente sterminato ho visto che c'è la possibilità di conquistare controllare degli artefatti molto preziosi per la propria dinastia di vampiri e quindi il pvp entra in gioco il fatto della sfida della conquista della riconquista di artefatti quindi della protezione degli stessi ma noi iniziamo con la partita che io ho fatto con un server personale quindi un gioco single player in sintesi perché ho stato dal mio computer ma non è online quindi è una partita privata ve lo potete giocare anche con gli amici in questo caso è una partita pv e ovviamente la premessa è se volete giocarlo solo in pv e odiate il pvp magari perderete per quanto ne so io qualcosina e quindi a quel punto consiglierei valheim ma perché rimanere su via rising se amate i vampiri in sintesi si va ogni anno a periodi c'è il periodo zombie adesso siamo nel periodo dei dei vampiri qui escono tanti giochi di vampiri tra cui anche vampire swan song va beh in sintesi quello che ho capito allora noi abbiamo il nostro personaggio vi ho saltato ho deciso di saltarvi la la parte iniziale che è un po tediosa e dove dovete recuperare le risorse in sintesi con il tasto tab accedete alla parte diciamo di equipaggiamento dove vi fa craftare tutto le armature d'ossa e pelle e andando su crafting potete andare a cartare le varie cose avete l'inventario abbiamo col tasto b la possibilità di costruire quello che faremo ora con il tasto m vediamo la mappa ci dà due scelte una volta che usciamo dal tutorial che la zona la cripta qua iniziale credo si può partire sia qui che qui ce ne sono due la mappa è assolutamente enorme credo che questo sarà un territorio che aggiungeranno in futuro e equipaggiando i dovuti tool possiamo andare a abbattere alberi adesso non so se si sente l'audio ma penso di sì e vedete si recupera si recuperano tutte queste tutte queste cose dopo di che che succede anche la roccia c'è ci sono le rocce da poter raccogliere sarebbe meglio usare in questo caso una mazza per essere più efficienti in questo caso raccogliamo anche fibre quando moriamo andiamo a perdere tutto tranne l'equipaggiamento base quindi la mazza insomma la lascia la spada e la armatura ma tutte le risorse le lasciamo a terra dobbiamo andare a riprenderle qua in alto vedete la mini mappa e soprattutto le ore quando arriva il giorno arriva il sole e il sole vampiri non piace quindi bisogna stare nelle ombre e alla luce del sole in pochi secondi andremo a perdere tutta la vita c'è una cosa di gioco che non ho ancora capito bene e quindi qui magari potrebbe essere utile più di tanti altri giochi approfondire il titolo con una live non ho capito il discorso del sangue in sintesi noi abbiamo questa blood pool dove andiamo ad accumulare sangue che possiamo prendere dalle creature ovviamente all'inizio ci sono solo scheletri non hanno sangue ma animali e altri mostri ogni mostro ha una tipologia di sangue diverso quindi da quello che ho capito quando noi vedete in questo caso la creatura se noi andiamo a mordere e quindi prendere il sangue da un'altra creatura annulleremo quello prima cambieremo tipologia di sangue e più ne assimiliamo dello stesso tipo più abbiamo questi bonus che vedete che va dall'1 al 5 che va a boostarci la rigenerazione della vita e così via qua invece il tutorial che vi guida all'inizio un po come succede anche su wallheim dobbiamo proteggere il territorio con delle palizzate costruire una barra di legno e una wooden stash poi abbiamo questo il nostro cuore e possiamo andare a rifornirlo vedete che in questo caso se no il nostro castello decade possiamo andare a costruire appunto la wooden coffin dove andremo a dormire presumibilmente oltre che espandere il nostro territorio perché potremmo andare a costruire adesso non queste i borda con il blood essence quindi recuperando le essenze di sangue potremmo espandere il nostro territorio ho fatto un po fatica a trovare un territorio senza alberi perché tutto ingrovigliato la small stash fortunatamente ho recuperato un sacco di un sacco di legno quindi abbiamo fatto facciamo la stash e poi facciamo la palisade che è questa quindi andiamo a proteggere il nostro piccolo castello che ha al momento credo solo un'entrata oddio io farei uno ne farei un'altra ma non ho abbastanza materiali credo missing resources sì infatti vediamo un po cosa mi serve non capisco mi mancano risorse perché a me ne ha chiesto un sacco immagino infatti vabbè dai prendiamo prendiamo l'ascia e andiamo a farla adesso non so se la musica è carina adesso la alzo un po' e recuperiamo ne stiamo recuperando parecchio quindi sia di pietra perché probabilmente c'è una pietra anche qua dietro che stiamo colpendo accidentalmente ogni tool ha una durability quindi andranno un pochino a consumarsi quindi completiamo questo tutorial e andiamo avanti io penso che la barra mi servirà nel momento in cui arriva il giorno perché se no sono dovuto tenere proprio nascosto per un bel momento allora la palizza la possiamo fare a possiamo scegliere anche il tipo sì mi servono fibre piante sì sì infatti me ne servivano 80 va bene costruito le tre palizzate andiamo a fare claim della quest che mi dà basic crafting and refinement costruisci e interagisci con una segheria una una workbench semplice e aumenta il gear level craftando equipaggiamento più forte perché è molto importante ho premuto per sbaglio questo che ci avvia le abilità in pratica qua abbiamo il veil of blood quindi il velo di sangue quindi andiamo a lanciarlo contro i nemici ha un tempo di ricarica usare questa abilità che ci aumenta l'attacco e poi abbiamo shadow bolt che fa 200% danni magici il sole sta sorgendo quindi hold to sleep e dormiamo quindi tecnicamente aspettiamo la notte nuovamente beh adesso non ho idea del fatto che sì probabilmente non ci fa dormire comunque di notte vedete vedete stiamo prendendo danno tanto danno allora costruiamo una sawmill infatti qua non l'abbiamo visto ma c'è l'exterior quindi possiamo costruirci una casa e la production quindi abbiamo simple workbench però il refinement è quello che ci serve perché per fare la sawmill per fare scusate le plank ci serve la sawmill qua c'è anche la fornace la pressa del sangue vermin nest il grinder allora si può ruotare la visuale ecco cosa che non ho magari non ho accennato prima quindi non è non è visuale fissa allora intanto ce ne stiamo qua alla bella ombra ad abbattere gli alberi ottenendo quei 400 di di legname poi il bello del gioco è che vabbè dovremmo anche nutrirci ma il bello del gioco è il vivere ogni nostra base ogni nostra avventura con la paura che possa arrivare qualche clan vampiro rivale di intendo dire altri giocatori ci saranno sì anche i vampiri nel pc però la natura del gioco è quella tipica che si è vista anche su vedete che poi non c'è più l'ombra qua quindi mi fanno poi sono spacciato la natura è simile a quella di valheim nel senso che nella mappa poi ci sono i mega boss e vanno battuti per comunque poter proseguire si potrà anche cavalcare da quello che ho visto quindi io adesso me ne sto ben qua nascosto però sono in single player cioè potrebbe anche passare la notte comunque facciamo la sawmill che piazziamo qui merda sto morendo allora devo capire come ruotarla rotate q ok facciamo la sawmill lì perfetto ma scusami hold to sleep e diventa così ma non mi fa passare il tempo più velocemente e vabbè ci svegliamo e va bene siamo dei vampiri atipici non abbiamo no devo spandere anche il territorio comunque che fastidio andiamo a farci la sawmill e ci produciamo le plank intanto muoio mannaggia sta consumando abbiamo 6 ore di non è messo proprio benissimo questa situazione non è sicuramente a nostro favore quindi temporagiamo fortunatamente vedete le ore di giorno durano di sole durano meno questo ha un teschio a fianco quindi secondo me ci pala ci pala di brutto infatti la vita non scende e io me la telo abbastanza infetta non ho scelto una gran zona dove stare è infatti infatti è arrivato qua e ci sta demolendo tutto il villaggio ok vado cerco di portarlo via almeno da qui perché non voglio che voglio tornare nella foresta e dare un'occhiata ah aspettate che ho anche dei topi nell'inventario che li mangio e il tipo di di sangue vedete che è andato a cambiare è diventato failed che non so cosa voglia dire quindi mi curo ma non è un sangue proprio rilevante questo dovrei andare adesso a cercare qualche creatura da mangiare per almeno risollevarmi la vita intanto qua c'è della pietra che potrei anche scavare con la mazza premendo il tasto 5 no attack level too low non riusciamo quella lì è una pietra già più avanzata che ci servirà per un crafting presumibilmente avanzato aspettiamo la notte sono già arrivato in un punto dove c'è un boss quindi vorrei evitarlo perché non è il momento è un po' da stupidi girare di notte cioè di giorno da vampiro però prendiamo anche un po' di legname che mi serve beh è comunque un gioco che nasce per essere un un multiplayer poi non ho ben capito ammetto la mia ignoranza perché diceva da da 2 a 4 giocatori quindi non credo sia neanche così massivo però sarebbe da vedere magari poi approfondiremo anche questo recuperato un po' di legno non vedo animali però mannaggia mi avrebbe fatto piacere prendere un po' di sangue animale e poi so che comunque di giocatori che sono appassionati di vampiri questo è uno stone golem a cui dovrei stare alla larga appassionati diciamo dicevo giocatori appassionati di vampiri ce ne sono tanti non so ma tra l'altro io non sono mai stato appassionato né di zombie né di vampiri ma vi dico la verità che spesso anch'io vado a periodi e capita il momento in cui ecco quando lo indebolite fate feed e gli succhiate il sangue vado a periodi perché quando comunque è uscito il project zomboil comunque hanno fatto l'aggiornamento quindi ci sono appassionato così come quando giocavo state of decay a vampiri io ho provicchiato un pochino una versione di prova di di quella il vampire swan song per quanto abbastanza noiosetto come gioco però mi ha ricordato quando giocavo a vampire la maschera il gioco di ruolo e cavolo non mi dispiacevo allora torniamo qua ho preso forse delle essenze anche essenza di sangue quindi posso espandere il mio regno posso espanderlo anche di qua 1 2 e 3 ok allora facciamo la production facciamo facciamoci un po' di legname un po' di sawmill facciamo il vediamo come funziona legname ok mi da dei bonus se confiniamo con il castello input inizio a produrmi le plank perfetto così con le plank facciamo il tavolo la simple workbench e con quella presumibilmente aumenteremo il livello del nostro gear che al momento non è altissimo perché abbiamo un item level di 10 dobbiamo arrivare almeno a 15 abbiamo un'essenza bassa del nostro core quindi dovremmo andare abbiamo un massimo di 30 slot e 3 serve ok qua invece prendendo copper ingot e 12 leather possiamo aumentare il nostro campamento il nostro core del castello a livello 2 quindi avere massimali più alti intanto vediamo se sta producendo abbiamo prodotto assi che io prendo e trascino vediamo se abbiamo modo adesso di fare la 8 plank 8 plank il resto abbiamo tutto quindi non serve qua abbiamo molto utile la cassa per metterci all'interno cose che magari non possiamo permetterci di perdere soprattutto queste che le perdiamo tutte in caso di morte non so se poi moriamo ancora andando a recuperare il corpo se le perdiamo definitivamente però ovviamente io qui non sto insegnando niente a nessuno quindi se avete dei suggerimenti l'avete già giocato e avete avuto piacere di vedere questo video fatemi sapere ditemi se cosa ne pensate quanto ci avete giocato qua dice aumenta il refining quando piazzato vicino a una stanza del castello e il castello devo ancora approfondirlo però in effetti storage vampire look box ma non so la coffin cosa serva ah respawn possono avere una sola ah respawn ok banalmente va bene dai 2 5 me ne mancano 3 e mi ha fatto anche della segatura so dust lo apparendo che non si sa mai credo che consumi anche no direi di no sembra di no però non consuma di notte ah si 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 consume poi scende di 1 una volta che però abbiamo 6 ore 24 che non so se equivalgano a 6 ore reali o di gioco ma credo reali perché sto vedendo che adesso sta passando avanti ma 6 24 sempre quindi dovrebbe darmi un po' di tregua probabilmente nei server va avanti anche quando siamo offline quindi è studiato per funzionare in quel modo lì aspettiamo l'ultima e poi facciamo la nostra il nostro workbench dovrei fare completare anche un pochino qua sarebbe protetto praticamente su due lati e qua praticamente quasi tre l'ho fatta un po' tattica questa involontariamente ovviamente allora ultima cosa perfetto B production simple workbench è bella grossa la spostiamo qui così molto bene fatta e ora ok simple workbench e beh questo è figo possiamo aumentare la bone sword con ah bone guard chest guard possiamo aumentare usando animal hide le nostre cose uh interessante quindi rinforzo la mia armatura perché gear level ah perché dobbiamo equipaggiarla ah ce la proprio ce la tiene proprio uguale la togliamo si 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 ok ottimo facciamo anche i boots poi mettiamo in coda tutto così potenziamo il gear perfetto mettiamo anche i boots mettiamo anche i guanti e poi mettiamo anche i pantaloni al che siamo a livello 14 quindi ci manca qualcosa da livellare ancora cosa possiamo fare bone sword rinforziamo la bone sword ci servono delle plank quindi le andiamo a prendere 4 e ne abbiamo 4 esatte quindi andiamo a potenziare la nostra bone sword e quindi adesso dovremmo andare super power perché facciamo più danno quindi è fighissima sta cosa 1 la metto lì no perché non me l'equipaggia 1 ok adesso siamo siamo fortissimi abbiamo 17 ovviamente la perdiamo qualora andiamo a potenziare tipo equipaggiare il 5 e quindi tecnicamente si siamo più bassi infatti abbiamo un gear un item level di quel livello lì quando abbiamo la spada abbiamo sbloccato l'altare del sangue questo visci interagisce con un altare del sangue scopri la conoscenza e nuovi poteri bevendo il sangue di un v blood carrier che questa è un'altra meccanica che ho visto che c'è ma non conosco questa è dominance abbiamo blood alta con 180 di pietra e 10 blood essence andiamo fuori e cerchiamo qualcosa cerchiamo qualche creaturina da uccidere in modo da ottenere delle essenze del sangue feed 6 essenze ce ne servono 10 quindi continuiamo ci torniamo dopo utile il fatto che sulla minimappa viene mostrato il percorso che abbiamo fatto fino a questo punto quindi sappiamo dove tornare no io non vorrei finire in faccia ecco questo è quello di prima un altro che non posso sfidare perché è troppo forte quindi me ne vado cerchiamo altri animali notturni è il trend lì mi segue ovunque oh ci sono delle cose da prendere qua ok non so cosa ho preso ma ok facciamo finta di non abitare qui di non averci mai avuto nulla a che fare così se ne vanno anche loro perché questa è la zona iniziale dove c'è un punto di teletrasporto e sarà il modo con cui comunque ci muoveremo tra le zone più più lontane della mappa feed 6 essenze non mi ricordo più che cosa serviva ma stone stone tanta stone quindi 5 cerchiamo una roccia questa 180 180 dobbiamo fare molto bene mannaggia pochissima ne manca torniamo iniziamo a tornare di là in base e proviamo a prendere un'altra pietra da qualche roccia tipo qua là c'è un animale sarebbe molto utile beh direi che ne abbiamo abbastanza ok allora bassa essenza ma vabbè non mi interessa ok questo qua è l'altare del sangue che piazzo magari qui e vediamo subito come funziona costruisci interagisci ok l'altare del sangue scopri conoscenze livello 16 livello 20 al lupo alfa track blood ok ci dà dei poteri se seguiamo queste caricature quindi questa qui è roll the stone breaker mi dà l'abilità di costruire anche una cassa grande eh ma lupo alfa track blood stop tracking ok sblocca blueprint research desk ma dove level too low research desk tanneri woodworking legno scolpito no posso sentire la preda a distanza quindi praticamente possiamo segnarne uno a distanza no deve attaccare con la spada però attacco con questo attacco con questo feed 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 il sangue è quello di creature si non non ho idea ce ne sono tante però ancora knowledge new power by drinking the blood of a v blood carrier e quello è quello e quello sarà da capire dove si trova il blood carrier perché mi dà quest'onda qui ma sarà sicuramente da approfondire infatti mi dà questo oggetto qui ma non capisco dove devo andare ci sono oggetti vado a prendere per gli animali che succede? no va bene dai ragazzi direi che questo blood rose the sun is rising basta basta via via nasconditi nasconditi sarà un bel problema tornare a casa allora gioco sicuramente intrigante imprescindibile dal mio punto di vista per chi ama i vampiri e per chi ama i giochi alla Valheim non è Valheim è più bello graficamente sicuramente Valheim è più cooperativo rispetto a questo vedremo come lo svilupperanno il gioco mi sembra già abbastanza ricco di contenuti pur essendo appena uscito pur essendo in early access quindi sarà sicuramente da tenere d'occhio ma questo è uno degli indie che comunque fossero tutti così intriganti e ricchi di contenuti sarebbe sicuramente una bella cosa intanto sto esplorando involontariamente arrivando qua dove c'è quest'alce dove c'è questo edificio qui che non so cosa sia uh alce alce no il sole no nel caso in cui dovessi morire tornerei alla mia coffin e dovrei tornare qui per poter recuperare la mia roba e io adesso qua ci muoio ci lascio le piume purtroppo volevo eh volevo battere l'alce ma vai e viene dipende un po' dalle nuvole insomma va bene allora ragazzi questo era V V per vampiro presumo V rising 19.99 su steam early access 12 mesi interessante fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao V Grazie per la visione!